Dio, ma che cosa? Ma che diavolo? Un demone del vuoto, indietro! Accidenti, questo coso è enorme! Potreste comandare, simile creatura. Non moro, questo è certo. Non ti distrarre! Sciugalo! Seduto! Non ci lasceremo rallentare, questa semplice creatura. Spero non ce ne siano più! Abbiamo perso già troppo tempo. Dobbiamo raggiungere Samael al più presto.